quattordici e ventuno allora un aggiornamento prima di tornare a Bernò con Berlino per sapere dalla nostra Emanuela Collazzo a che punto siamo? Quanto manca? Non manca molto alla fine della venticinque chilometri Paolo e ci sono ottime notizie per l'Italia perché in testa c'è la nostra Martina Grimaldi lo scatto di Martina Grimaldi negli ultimi chilometri la campionessa del mondo è in carica eh si prepara per andare a vincere ma ancora e presto c'è ancora e sempre la tedesca Angela Maurer a lottare con lei dunque aspettiamo fino alla fine prima di dare le notizie assolutamente definitive a te Paolo e allora entrerai naturalmente eh nella radio cronaca di Nico Forletta Bernò Repubblica Ceca a te la linea Nico ebbene Marquez se la deve sudare se la deve sudare molto esattamente questo è un momento di crisi inaspettata per Marquez sono gli ultimi metri della venticinque chilometri femminile sta passando proprio sotto la nostra postazione Martina Grimaldi la campionessa del mondo in carica che si prepara per andare a vincere anche questa venticinque chilometri agli europei eh di Berlino lo scatto della campionessa del mondo che è rimasta sempre nelle prime posizioni dietro però alle altre due azzurre Ilaria Raimondi giovanissima esordiente ventenne Alice Franco che era la campionessa eh la del d'Europa in carica a oro due anni fa a Piombino poi però ha prevalso la classe la forza di Martina Grimaldi che si prepara ad andare a vincere in solitaria mentre in seconda e terza posizione lottano la tedesca Angela Maurer e la Olaz ungherese ma Martina Grimaldi si prepara ad andare al tocco ultimi metri per la campionessa del mondo in carica che dunque dopo la delusione della dieci chilometri va a vincere la venticinque chilometri di fondo femminile qui a Berlino si conferma Martina Grimaldi la numero uno nella venticinque chilometri oro Martina Grimaldi l'argento è andato invece alla tedesca vediamo un po' no alla Olaz c'è stato un arrivo quasi al photo finish tra le due tra la Olaz e la Angela Maurer dunque questo è il podio della venticinque chilometri Martina Grimaldi oro è la cosa che più ci interessa argento all'ungherese Olaz bronzo alla tedesca Angela Maurer a te la linea